Sì, adesso stiamo parlando del Moto Z con il modulo Hustle Blase. Stiamo un po' sempre a... Stiamo tirando sempre un video a 1080p con la stabilizzazione attivata. Infatti sembra abbastanza buona la stabilizzazione, almeno dal schermo del telefono. Avendo uno zoom ottico, apriamo un po' come funziona lo zoom. Rispetto alla fotocamera interna, sembra abbastanza lento. Proviamo ora a fare qualche macro e vediamo insomma di fare qualche pan rapido. E anche che campi di esposizione. Sembra leggermente più lento rispetto alla fotocamera interna. Vediamo un attimo la stabilizzazione che invece sembra particolarmente buona. Finiamoci alla pianta, facciamo l'ultima macro e poi ci salutiamo. E' lentissimo. E ciao! Ciao!